Ora vediamo alla deduzione dei nostri versamenti Quindi banalmente aderendo a un fondo pensione ottengo dei soldi gratis Parte dal dottore di lavoro e parte dallo Stato tramite le deduzioni Ho preparato uno schermino Excel per farvi vedere questa cosa qui Quindi supponiamo un reddito di 26.500 euro annui A sinistra potete vedere gli scaglioni IRPEF e a destra la percentuale di tasse sullo scaglione Quindi la parte di reddito fino a 15.000 euro è tassata al 23% Quindi il 23% di 15.000 euro fa 3.450 euro Ok, la parte di reddito da 15.000 a 28.000 euro In questo caso 11.500 euro verranno tassati al 25% che fa 2.875 euro Quindi sul mio reddito in totale andrò a pagare 6.325 euro di tasse Ora vediamo la soluzione B Abbiamo sempre lo stesso reddito 26.500 euro Ma sottraiamo 1.500 euro di versamenti Un po' miei e un po' del datore di lavoro Ora vediamo che il reddito imponibile è sceso a 25.000 euro Quindi fino a 15.000 euro pagherò la stessa somma in tasse Perché 15.000 euro saranno sempre tassati al 23% e genereranno sempre tasse per 3.450 euro Mentre il reddito che va da 15.000 a 28.000 euro è sceso Anziché 11.500 euro è 10.000 euro Quindi il 25% e 10.000 euro fa 2.500 euro Quindi in totale pagherò 5.950 euro di tasse Quindi avrò un risparmio fiscale di 375 euro Quindi aderendo a un fondo pensione ho ottenuto soldi gratis dal datore di lavoro E soldi gratis dallo Stato Quindi avrò un risparmio fiscale di 4.500 euro di tasse